Come ovviamente ampiamente previsto e organizzato nei minimi particolari, si va in aula, hanno deciso, a maggioranza, forzando come sempre, quindi inizia domani la discussione, non sarà soltanto incardinata sulle riforme costituzionali, perché proseguirà anche domani pomeriggio, anche nella giornata di venerdì, a nulla è valso anche il ritiro degli emendamenti, a dimostrazione che era stato già tutto quanto organizzato, la stessa Presidente della Commissione è venuta a dire che non c'erano le condizioni per proseguire in Commissione, peccato che in Commissione non fosse neanche iniziata la discussione nel merito degli emendamenti. È una forzatura assolutamente inaccettabile, abbiamo assistito a tante forzature, non viene utilizzata la procedura ordinaria, si va avanti sempre a mostrare i muscoli, l'unico motivo per cui si è tolta dalla Commissione è perché in Commissione non c'erano i numeri e quindi si pensa di andare a raccattare i numeri in aula. Noi riteniamo molto grave, ancora una volta, la forzatura che è stata fatta, un'accelerazione formidabile anche per il termine degli emendamenti che è stato stabilito mercoledì, peraltro le sedute di giovedì e venerdì sono state messe a posto in modo tale che magari la maggioranza se ne può tornare tranquillamente a casa e quelli che saranno iscritti a parlare parleranno davanti a un'aula vuota.